8 vittori, qual è l'obiettivo della Roma adesso? Adesso abbiamo l'Inter, una partita bellissima che se riusciamo a vincere andremo a 8 punti di loro e il terzo posto sarebbe più vicino. Quindi sappiamo che non sarà facile, però stiamo giocando bene, stiamo facendo tanti gol e dobbiamo continuare così. La sconfitta di ieri della Juve potrebbe avere contraccolpi sul campionato? Si vedrà, la Juve è una squadra fortissima, sia calcisticamente come psicologicamente, quindi io non credo che questo li fa perdere qualche punto, però vediamo noi. Se loro perdono qualcosa, qualche partita, noi saremo lì per intentare arrivare o almeno essere più vicino a loro. Consideri l'Inter un rivale credibile per la corsa da Champions? Sicuramente, è una delle squadre più forti dell'Italia istoricamente. Sicuramente loro se pensano, se vincono sabato, saranno a due punti solo, quindi credo che hanno la possibilità. Per quello che noi dobbiamo vincere per forza, dobbiamo continuare a fare le partite come stiamo facendo e dobbiamo sommare da tre punti. Quale giocatore nel azzurro otteni di più? È vero che non so se il Cardino non gioca, Palazzo è rifiutato, sono giocatori che ne hanno abbastanza bene. Poi Perisic lo sta facendo a un buon livello, hanno giocatori in tutte le linee di grande livello, quindi sarà una partita molto difficile. Rimpianti per non essere andato all'Inter questa estate? No, no, io non rimpianto mai la mia vita. Ho avuto la fortuna di arrivare qua alla Roma e mi hanno fatto giocare dal primo momento, quindi sono molto contento di essere qua. L'ultima, senti Diego, da quando sei arrivato sei stato uno dei migliori della Roma. Qual è il segreto di questo tuo rendimento? Non so se sia un segreto, io l'ho detto, da quando uno arriva così nuovo e ti fanno giocare subito, quello è una fiducia che ti porta ad andare avanti. I compagni mi hanno ricevuto come uno in più e mi hanno fatto sentire come uno che arriva da fuori. Quindi quello per me è stato importantissimo. Poi mi hanno fatto giocare quasi tutte le partite e per un giocatore è quello che è più importante. Grazie.